cari amici cari amiche oggi vediamo cos'è la degusta box è una box che potete prendere in abbonamento ma potrete prendere anche soltanto una la prima volta a un prezzo che ancora non vi dico ve lo dirò dopo allora vediamo cosa c'è all'interno quindi apriamola questa box è arrivata ieri perché segnalata come sto facendo io con voi da una persona e vediamo cosa tutto c'è all'interno e poi vi dire come averla e a che prezzo allora ogni mese viene inserita una novità questo mese come novità abbiamo la birra della peroni la capri che è una birra molto molto valida una cosa che salta all'occhio subito ragazzi ragazze non bevete se dovete guidare comunque vediamo cosa tutto c'è all'interno box di giugno e se ne avrete tutti i vari prodotti quali immagino che ci sia una bibita e difatti che abbiamo l'acqua tonica mediterranea abbiamo l'agrodolce e la salsa molto buona la conosco già poi questo è un mix di quattro tipi di pepe molto buono molto molto buono insaporitori per carne per quello che volete dai da 5.000 che non bastano mai paprichine queste sono delle tipo delle patatine molto buone poi cos'è pomodori secchi pronti da mangiare scadenze come potete vedere 2024 quindi scadenze lontane non è roba in scadenza assolutamente questa è crema di aceto balsamico non è un solo aceto balsamico è proprio crema di aceto balsamico molto molto buono poi i famosi panini di hamburger di roberto che non so se si vede ma sono e rimangono morbidissimi sono un'ottima alternativa al pane tradizionale se dovete andare per esempio al mare o in montagna vi potete imbottire portare con voi la famosissima birra della peroni la capri molto buono anche questa scadenza marzo 2024 ancora ma che buono ritter sport cioccolatini crispy banana questo non riconosco deve essere buonissimo e poi ancora 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 guardate cosa abbiamo qua le merendine proteica della mister day 6 muffin caramello salato allora queste che cosa è arrivata nella box max hamburger di roberto 1 euro e 59 la salsa calve 2 ore 49 le caramelle action vigor sol e quant'altro le spezie quante tipi di di pepe poi abbiamo il pomodori secchi prodotto del mese eccolo qua la c'è la crema di aceto balsamico poi andiamo avanti i croccantissimi della storia dall'altra parte abbiamo l'acqua tonica mediterranea scendiamo giù la birra peroni i dadi della clor e parema fin dalla mister dei foto extra questa sorpresa questo mese potrebbe essere quale qual era penso che fossero i cioccolati questi qua quindi ogni mese se noi andiamo a farci la somma di quello che costa tutto abbiamo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 50 19 21 22 23 24 25 27 28 euro circa considerando che sono incluse le spese di trasporto se io vi dico che questa box ve la faccio arrivare seguendo il link che trovate in descrizione a 9 euro e 90 che dite vi piace fatemi sapere nei commenti di cosa ne pensate se già la conoscete e soprattutto se la richiedete utilizzando il mio codice grazie a tutti alla prossima iscriviti al canale